Il voto è importantissimo, chiedo di partecipare, di votare, numerosi e soprattutto di aprire un'uova stagione di partecipazione a Roma. Noi vogliamo realizzare un governo che ascolta i cittadini e soprattutto che li coinvolga. Li coinvolga nelle scelte, nella realizzazione della nostra idea di una città dei 15 minuti, vicino alle persone, con i servizi di prossimità e che favorisca un protagonismo dei territori, dei comitati, delle associazioni e delle tante intelligenze diffuse che sono in questa città. Noi proponiamo un grande patto per il lavoro e lo sviluppo a tutte le forze produttive e sociali della città. Includeremo, ascolteremo la città nelle grandi scelte dei prossimi mesi, i progetti del PNRR, il Giubileo, l'Expo. Insomma, io penso che per rispondere a questa disaffezione occorre efficienza e qualità delle idee, dei programmi, delle persone che si presentano al voto, ma poi anche un modo diverso di fare la politica più aperto, più inclusivo, più attento al punto di vista delle persone e dei territori.